un milione non è possibile un milione non è possibile un milione lo abbiamo messo ieri sto video c'erano due visualizzazioni un milione non è possibile o dobbiamo farne altri la gente comincia ad affezionarsi ci stanno amando ma le visti non mi piace vabbè ma tu devi guardare i mi piace sono due ci sono due persone a cui piacciamo uno sono io e l'altra mia sorella o allora resta il fatto che dobbiamo fare altri video non è possibile ma come non è possibile guarda la un milione sai che vuol dire che la gente vuole altri video e adesso ti faccio vedere io come li facciamo sentiamo come si farebbero questi video salve a tutti amici di paossio channel oggi faremo un video su un argomento molto interessante anche scientifico se vogliamo le scoregge prendono fuoco o è solo una leggenda metropolitana dar fuoco alle scolette può farvi morire scopriamolo insieme adesso vi insegno il modo migliore per degustare l'acqua oligominerale aprite la bottiglia avete acqua a favore di camera si versa poca acqua all'interno del bicchiere questa è dell'ottima acqua naturale tutti quanti mettono le scarpe ma quanti tra di voi sanno davvero come si allacciano allora per prima cosa bisogna infilare il piede all'interno della scarpa in questo modo come visto facendo il nostro nodo è finito copriamo il tutto col pantalone oggi vi insegnerò come fare le pernacchie con le ascelle è una pratica musicale molto interessante allora la prima cosa da fare è infilare una mano so... chi è ? merda 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 aspetti qualcuno sono due mesi due mesi che non paghi l'affitto ora secondo me possiamo procedere in due modi modo uno mi dà i soldi più l'anticipo del prossimo mese fra una settimana o entro io a casa tua e non per prendere un caffè magari di notte quando stai dormendo tanto le chiavi no veramente a quelli che non pagano io gli dai la gola cazzo 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 ma il tuo padrone di casa è tipo un maniaco poco poco lascia perdere quello è capace di entrarci davvero a casa mentre dormo e siccome l'affitto è in nero può cacciarmi quando cazzo gli pare anche a calci in culo molto rincuorante adesso sono proprio tranquillissimo eh comunque tre video in tre giorni tutti andati a merda ma allora il milione di visualizzazioni cioè perché sto video si e gli altri no non lo so a me mi sa che la botta di culo ce l'abbiamo avuta veramente e se continua così non si ripeterà guarda le visite 21 visualizzazioni 18 non mi piace secondo te devo andare avanti così ma se il video della botta di culo ha funzionato perché non ne facciamo altri uguali simili con la carta e il cestino eh mi pare un'idea del cazzo così a naso eh senti se quel video di merda ha funzionato un motivo deve esserci facciamoci camminare la testa cerchiamo di capire qual è stata la causa scatenante di questa cosa si ma guarda che ste cose sono assolutamente casual oh che è nictus che è? shh che è? shh che cazzo sta succedendo? sto pensando sto pensando ho capito ottimo poi lo spieghi anche a me grazie a tutti Grazie a tutti.